La meravigliosa Harley Davidson che vedete qui è frutto dell'opera della 081 Garage di Napoli, un atelier che più volte abbiamo avuto modo di raccontare le creature che ha creato nel corso degli anni e che è anche presente qui al Moto Days 2017 di Roma. La 081 Garage si pone come il punto di riferimento degli arleisti e non all'ombra del Vesuvio. Il mondo bikers ha trovato una nuova dimensione alla 081 Garage dove è possibile trovare la giusta assistenza alle proprie Harley Davidson ma anche la possibilità di renderle ancora più interessanti e originali perché è possibile appunto, grazie a loro professionalità, personalizzare la propria due ruote. Quindi appuntamento è a Via Nuovo e Ponti Rossi 126 Napoli 081 Garage. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.